Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in una nuova sorpresa. Allora, praticamente ho detto ad Alessio che oggi non ci sarà un allenamento di calcio, ma invece lo vedrò e gli farò anche la sorpresa. E quindi adesso sto registrando con il telefono, ma se ho l'occasione filmerò con questo, che è meglio. Allora, io adesso vi saluto, adesso mi faccio il letto, mi vesto e poi uscirò. Ti dico niente, sono super accitata perché da tanto tempo che non faccio la sorpresa. Allora, io adesso vado, incrociata le dita che non mi becca e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao a tutti! Sono tornata con la mia videocamera. Vabbè, nel frattempo che vado e dita, guardami che faccio piano, eh. E a parte quello, io adesso sto andando a fare una sorpresa ad Alessio, che è il mio ragazzo. Praticamente gli ho detto che oggi sarei dovuta rimanere con mia madre, bla 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 bla, praticamente. E oltre quello, adesso io sto andando a quarto, lui credendo che io sia allo stadio, non sospetta minimamente nulla. Sperando che non arrivo prima di lui, perché se no sono dei pescini. Guardate che intanto guarda se arriva qualcuno. Perfetto. Vabbè, nel frattempo io quello che sto registrando è questo. Ho anche la batteria scarica di già, perfetto. Allora, a parte il fatto che adesso tra un po' attraverso, io attualmente mi trovo qua, che sarebbe il posto dove prendo il 39 ogni santa mattina, o anche il 40 che mi porta a Brignole. E poi sperando che Alessio sia già arrivato, così gli faccio la sorpresa lì. Aspettate. Quello, per esempio, non so se si vede, è il 36. Un altro autobus che va sempre lì. Ah sì, posso prendere anche quello, dato che ci devo mettere di più. Aspettate. Devo se riesco a prenderlo. Ok, ci sono, intanto, devo perdere tempo, quindi. Infatto, non so se si vede, sono le 9 e un minuto, qua, anzi ho anche lo secondo che si cambia. Per quello che si vede, sono all'interno di un autobus. Allora, io adesso finisco tanto un anno e di risparmio il viaggio e appena arrivo a Brignole inizio un attaclip in cui praticamente... Infatti, io adesso, mi interrompo, appena sono a Brignole inizio un attaclip in cui vi farò vedere che autobus prenderò per andare a quarta. Ciao! Ciao a tutti, sono a Brignole, per dire, proprio benissimo, eh. Vabbè, questo è il presente 356 che va in via Fea, che sinceramente non so dove vado. Allora, per farvi capire, quell'autobus, aspettate che mi muovo piano, è dove va a quarto, cioè il 16. Quindi, se volete andare a quarto, dovete prendere il 16 o anche il 17 che porta a Nervi. Vabbè, per farvi capire, lì ci sono tutti gli autobus. Allora, io adesso salgo qui, speriamo che non ci sia un nuovo, controllo. Ok, sembra che non ci sia nessuno. Controllo, sembra che non ci sia nessuno. Ok, allora, a parte il fatto che mi metto un po' da conti, che adesso c'è scritto anche in quanto parte, cioè partenza alle 9.30. Io finisco questa clip, poi vi farò vedere, se ho voglia, la reazione di Alessio appena arriverò, in caso intanto inizio la clip appena trovo qualcuno. Adesso vi saluto e ci vediamo dopo con un'altra clip. Ciao! Ciao a tutti, sono a quarto. E io non vi dico niente, sono in agitazione tutto il tempo. E quindi, vediamo che non c'è... No, non ci credo! Adesso, vediamo la reazione. E' tonica! Ciao! Oddio, è muto! Muto! Tanto guarda un po'. Allora, io comunque, adesso, faccio la clip in cui scendo e faccio la reazione. Oddio, mi sto tolendo l'ansia! Adesso scendo da qua e vi spiego un attimo, praticamente qua sopra c'è una scuola, no? Adesso scendo e vediamo la reazione di Alessio. Ho un'ansia. Aspiro, ho saputo se non muoio prima. Vediamo un po'. Senti quando hai l'ansia addosso? Senti quando hai l'ansia addosso? Sì! Vediamo un po', vediamo un po'. Buongiorno! 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 Salve! 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 Sei contento? Dai! Va bene, va bene, va bene, va bene. Ciao! 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 Ehi! Ti saluto! Ti saluto! Ti saluto! Ti saluto! Piano che ho la telecamera! Piano! Come va? Bene! Allora... Sorpresa riuscita bene! Alessio è contento! Gli avevo raccontato che ero allo stadio! Allora, vieni qua! Sorpresa riuscita! Io sto con Alessio e sono contento adesso! Allora... Vi faccio salutare intanto! Saluta! Saluta! Raga, salutate! Siete in un mio vlog! Dai! Un ciao! Ecco! Bravissimo! Ciao! Allora... Io adesso vi saluto! Vado a cambiavi che sto crepando di caldo! E noi ci vediamo ormai con un nuovissimo vlog! Ciao!